Ma ci siamo nel frattempo, tutto pronto, si aprono le gabbie, partiti i cavalli dell'ultima corsa di questo pomeriggio. Per lento è partire a Fast Money ma comunque è rimasto lì a contatto, veloce True Motion che invece si porta al comando nei confronti Nanga Jambu. In terza posizione all'interno c'è Morgan Blond a precedere Intense Life, riconoscibile dalla giuba gialla ma il cap rosso. Poi il favorito Piz Bernina che si è sistemato in quinta posizione, alle loro spalle c'è Thunder Flash che ha preso una buona schiena, poi dietro a questi stavo pensando a te ed ancora Elisir, Pantalica, Apache Kid e Limited Edition che chiudono il gruppo piuttosto lontani. Siamo già addirittura ad arrivo con True Motion che l'ha messa sul ritmo, Morgan Blond che non lo perde mai di vista, allora si prepara anche Nanga Jambu, stessa cosa che fa Piz Bernina per corsie più esterne. All'interno ci va anche Intense Life insieme a Fast Money dal centro della pista, ci prova Thunder Flash, ci prova anche Stavo Pensando a Te con Elisir che è lontana in questa fase. True Motion ha preso tutto in contropiede, ancora in vantaggio al paletto dei 200, prova ad avvicinarsi Piz Bernina, prova anche Nanga Jambu quando mancano 100 metri dal traguardo però. True Motion ha messo la corsa in ghiacciaia e viene a vincere, facile, nei confronti di Piz Bernina per il terzo posto Nanga Jambu. Doppietta dunque per Pasquale Borrelli, Fabio Boccardelli e Matteo Belluscio, il team romano che dunque sul tema della velocità ha vinto sia in erba sia in all weather. True Motion conquista la vittoria, replicando rispetto a quella del 4 luglio a Tagliacozzo, vittoria numero 4 in carriera per il figlio di Kodiak. Qui lo stiamo vedendo nelle battute finali con un bel costo costa, alla fine portato a termine con tanto di carezza da parte di Pasquale Borrelli sul 4 anni che vince. La seconda Tris, 10 al primo posto, al secondo il favorito Piz Bernina numero 4 e per il terzo abbiamo visto transitare Nanga Jambu. Buona la sua prima esibizione in all weather, chiaramente ordine d'arrivo che deve essere ufficializzato, ma molto probabilmente recita così, 10-4-3. Chiude i battenti del pomeriggio True Motion. Gabriele Candi vi ringrazia per averci seguito, vi saluta, vi auguro una buona serata. Non prima di aver ricordato che la prossima giornata di corso in questo ipodromo sarà domenica 5 settembre. Grazie e buon proseguimento di serata è tutto.